Si racconta, visto che lei ne ha vissute tante di queste settimane natalizie in giro per l'Europa, se c'è una ricetta particolare, se cambierà qualcosa nel modo di lavorare in questi giorni, considerando le tre partite tra Natale e Capodanno. Beh, cerchiamo di combinare, credo che Natale è un momento importante per tutti, per tutti noi, e cerchiamo di combinare l'aspetto lavorativo con l'aspetto festivo, nel senso che ci dovremo allenare a Natale, questo è normale, ma naturalmente abbiamo la possibilità di passare una parte, il pranzo natalizio, ognuno nelle proprie case. Non credo che cambia molto, è una bella novità per il calcio italiano, perlomeno in Inghilterra la gente approfittava del Boxing Day del giorno dopo Natale per andare tutti allo stadio in maniera rilassata e speriamo che sia così anche qui da noi. Ecco, a proposito del Boxing Day, che sarà Inter-Napoli e di combinazioni, il fatto che ci siano due giocatori molto importanti per il suo progetto, e cioè Coulibaly e Insigne in diffida, può in qualche modo condizionare le scelte per la partita di domani o non ci pensa proprio? No, assolutamente no, anche perché non far giocare un giocatore in diffida significa far risaltare due partite nel momento in cui prende l'ammunizione, perciò al di là di quello, ma sono tre partite molto importanti, vogliamo fare tutti i punti possibili, per cui dobbiamo cominciare domani contro una squadra che gioca un buon calcio, propositivo, perciò non facciamo calcoli in riferimento alla partita con l'Inter, assolutamente no, giocherà una squadra che ritengo migliore senza fare... e poi dopo la partita penseremo alla partita con l'Inter, ma abbiamo sempre fatto così e faremo così anche domani. Tra l'altro abbiamo quasi tutta la rosa a disposizione, tranne Allan che ha avuto un problema alla schiena che non è riuscito a recuperare, ma tutti gli altri sono disponibili, anche Mario Rui che è rientrato stamattina da problemi suoi che ha avuto in settimana. Grazie, allora ne approfitto Allan, riuscirete a recuperarlo per la gara contro l'Inter? Sì, ha avuto il classico colpo della strega, insomma, niente di particolarmente, sta molto meglio, ma non è in grado di giocare domani. Grazie. Corriere dello Sport. E come si gestiscono tre partite in seggiorni? Come? Come abbiamo sempre fatto... Non ho chiesto la formazione. Non c'è tanta possibilità di allenarsi, siamo focalizzati, quando c'è questa vicinanza di partite, soprattutto sul recupero dei calciatori. Abbiamo sempre fatto così, oltretutto la squadra da segnali di buona condizione, perché recupera velocemente dagli sforzi, non ci sono scorie dopo le partite, dopo due giorni sono già fresche e pimpanti, perciò credo che arriveremo fino alla fine in una condizione buona. Invece un'altra curiosità, dopo quattro mesi di Italia, che sensazione avverte? Cioè, rispetto al momento in cui l'hai lasciato, il calcio italiano è migliorato o è peggiorato? Sotto tutti gli aspetti, cioè tecnico, tattici, ambientali, nel mondo arbitrale, se vuoi anche mediatici. Sei autorizzato a parlare male di tu? Beh, cosa ho ritrovato? Io, diciamo, l'esperienza che avevo da fuori è un'esperienza un po' diversa, nel senso che vedo più partecipazione della gente agli stadi, gli stadi si stanno piano piano riempiendo, sta ritornando la passione, non vedo sostanzialmente grosse polemiche, credo che la VAR in questo senso ha aiutato, anche se obiettivamente necessita dei miglioramenti. Vedo un calcio italiano in salute. naturalmente, se fossimo riusciti noi all'Inter ad arrivare negli ottavi di Champions, avrebbero tutti parlato di un calcio italiano in grande ripresa. Siamo in ripresa, anche se noi all'Inter siamo andati fuori dalla Champions, ma io penso che possiamo competere in maniera decisa nell'Europa League, quindi avendo la Juventus e la Roma nella Champions, l'Inter, la Lazio e il Napoli nell'Europa League, penso che sono sicuro che ci faremo valere. a livello ambientale le cose secondo me stanno migliorando, grazie anche credo per quello che riguarda la situazione ambientale, gli insulti e così, credo che la federazione nella figura del Presidente ha fatto dei discorsi molto seri e molto ben precisi, quindi le cose stanno veramente migliorando. Repubblica. Io invece volevo chiederti di Verdi, se sta bene, è pronto per giocare anche domani. Sì, sì, sta bene, si è allenato regolarmente, non avverte più nessun problema, può essere sicuramente utilizzato. Il mattino. Ciao, buongiorno. Anche in base a quello che dicevi prima, c'è che Allan non ci sarà domani, potrebbe essere la partita di Rog? Potrebbe, di Rog, di Fabiano, di Zielinski, in quella posizione. Radio Kiss Kiss. Sì, buon pomeriggio, mister, in diretta sulla radio ufficiale. Con il Liverpool a Genova, a Bergamo, a Cagliari, sempre gol nel finale. È un caso? È un segno di maturità? È una squadra la tua che sfianca gli avversari? E poi c'è una mia curiosità. Beh, l'aspetto fisico credo che è molto importante, credo che ha condizionato molte partite, soprattutto contro l'Atalanta, contro il Cagliari. Credo che la parte finale, a livello fisico, l'abbiamo fatta molto bene. Quello sicuramente ha inciso. E poi dopo c'è anche un pizzico di buona sorte, naturalmente. però, come ho detto, la fortuna e la sfortuna arrivano se te lo meriti, se non te lo meriti e se non ci credi fino alla fine, se non lotti, se non combatti, è difficile che poi dopo riesci ad essere premiato nel finale. A proposito di fortuna e sfortuna, possiamo dire, con tutto il rispetto che si deve agli avversari, che l'Urna e i Nihon questa volta, tra virgolette, è stata fortunata, ma che ovviamente è un impegno europeo. Insomma, ti puoi dire soddisfatto? Beh, sulla carta, sì, sulla barata, dopo c'è il campo e lo Zurigo lo conoscono tutti pochissimo e proprio per quello forse non è una squadra considerata, ma è una squadra che ha fatto molto bene diciamo il girone, battendo il Bayern Leverkusen che non è l'ultimo arrivato in Germania, perciò rimane sempre una squadra una squadra che è veloce, dinamica, una squadra che gioca a calcio, quindi è una partita che va affrontata sicuramente non con superficialità. E l'ultima mister invece te la faccio diciamo di colore sul tuo primo Natale a Napoli che atmosfera stai respirando? Com'è questa città durante le feste di Natale? Che emozioni ti dà? Ma il Natale dà sempre emozioni credo che in qualsiasi posto lo fai, perciò la cosa sorprendente è farlo a 20 gradi e non mi è mai successo e di solito si faceva con la nebbia o con la nebbia qui ci dobbiamo abituare a farla col sole. Ma sì, si può fare il pranzo in terrazza. Canale 8 Buongiorno mister lei ha sempre detto anche recentemente che il Napoli è una squadra che deve prendere le partite di faccia perché nella gestione insomma non è proprio gestire la partita non è proprio una delle sue precipue qualità ma è un obiettivo migliorare anche questo aspetto e se sì come si fa. a Grazie a tutti.